Una sconfitta pesante per il Castelnuovo nello scontro salvezza contro il Fano al Raffaele Mancini, il vantaggio Iteramani nella prima frazione con l'autogol di Manet nella ripresa è lo stesso Manet a pareggere per i suoi a un minuto dal termine e Tortori a consegnare tre punti pesantissimi ai marchigiani in ottica salvezza. Pronti via, sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, Tortori ben imbeccato in verticale, prende la mira fuori di poco, la risposta nero-verde arriva al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio piazzato, Casimiri da posizione ghiotta non riesce a trovare i compagni nel cuore dell'area avversaria, i Teramani crescono sugli sviluppi di un calcio d'angolo, i Miri provano a sorprendere Olivieri. L'estremo Adriatico risponde presente, lo stesso numero 10, una mancia di minuti dopo, destro a giro pregiole ma solo sul fondo, la risposta marchigiana porta sempre la firma di Tortori, il numero 11 sguscia in aria, conclusione deviata di un soffio in corner, azione fotocopia dal versante opposto, la deambendata sorride a Emili, la sua conclusione deviata termina in fondo al sacco. La risposta fanese arriva dal piede di scopa, Alonzi in due tempi disinnesca con un pizzico di affanno. Nella ripresa arriva subito il pareggio della truppa di Mister Catalano sul corner, ma ne è il più lesso di tutti sulla respinta del palo a confezionare il pareggio. Sulle ali dell'entusiasmo l'alma Juventus Fano potrebbe mettere la freccia del sorpasso, Casolla con un palonetto scavalca l'estremo avversario, ma Terrenzio salva per il rotto della cuffia sulla linea ai suoi, piove sul bagnato in casa castellana, Bubalo già ammonito colleziona il secondo giallo di giornata e lascia i suoi in dieci. A sette dal termine ci riprova ancora la squadra di casa, Variale approfitta di una indecisione della difesa avversaria, ma manda alle ortiche il tutto con un palonetto velleitario, poco male per i marchigiani. A un minuto dal termine sua azione insistita in aria è Tortori, il più veloce di tutti, ad arrivare sulla corte respinta di Alfonsi e a segnare il pesantissimo vantaggio. Nel finale non succede più nulla, l'alma Juventus Fano conquista una vittoria importantissima in ottica salvezza contro un Casanovo sempre più invischiato nella zona più calda della classifica. Sì, forse ci eravamo prima dopo una sconfitta, figurati se non ci siamo adesso. Niente, dispiace perché anche oggi i ragazzi hanno disputato una buonissima partita, siamo andati in vantaggio. Ci siamo lottati nella partita alla pari con il Fano e poi ancora una volta gli episodi purtroppo ci condannano perché poi l'espulsione sicuramente di Bubalo alla fine ha fatto la differenza, anche se eravamo riusciti a portare in porto questo pareggio che per noi, soprattutto dal punto di vista del morale, sarebbe stato importantissimo. Però non ci demoralizziamo, dobbiamo andare avanti e pensare di dover affrontare, anche domenica è un'altra partita importante, dove dobbiamo tornare a far punti. Questo è quello che dice la classifica. Era uno scontro diretto, è chiaro che scontro diretto sono importanti, ma è un campionato che ci vedrà soffrire fino alla fine, dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere uniti, compatti proprio nei momenti di difficoltà come c'è stato nel primo tempo e quindi questo deve essere la nostra forza in questo momento. È chiaro che da un lato ci lavoriamo anche abbastanza, dall'altro è fondamentale chi le calcia ed è fondamentale anche chi ci va a saltare. È un po' un'unione di più fattori che finalmente hanno portato a qualche risultato tangibile.